Buongiorno, sono Maria Giovanna Gaglione, Sales Manager di Trina per il mercato italiano. Oggi è il piacere di parlarvi del nuovo modulo Vertex S, un prodotto che sicuramente è molto apprezzato dal mercato italiano, ma in questa versione è stato ottimizzato. Raggiungiamo un output di 430 watt su una superficie che non supera i 2 metri quadri, molto simile al modello precedente, 21.5% di efficienza del pannello. È un modulo che è perfetto per le applicazioni di taglia residenziale, il suo valore aggiunto è che Trina è riuscita a mantenere livelli di corrente intorno agli 11A, permettendo quindi una perfetta compatibilità con tutti gli inverter di stringa. Da questa parte invece abbiamo il modulo pensato per le coperture di grosse dimensioni a livello industriale, raggiunge un output di 580 watt e un 21,5% di efficienza. Qui Trina ha ottimizzato soprattutto il livello di tensione, mantenendolo abbastanza basso, per permettere quindi di progettare con stringhe più lunghe e ridurre tutta la parte di costi relativi alla parte elettrica di cablaggio e quindi di ridurre tutti i costi di sistema e quindi l'alzio in. Infine vi mostro l'ultimo modulo di generazione Vertex S nella variante Full Black per dare anche un tocco di eleganza a quello che è un prodotto destinato soprattutto per il mercato residenziale. Grazie a tutti!